Ciao, ciao, tre gemelli, tre gemelli, uno più bello, più bello dell'altro. Welcome in Italy! Visto che parlano evidentemente americano, vorrei la mia piccola grande interprete che si chiama Sofia Checchi. Eccola lì, buonasera Sofia. Benvenuta, bentrovata, li hai già conosciuti dietro le quinte? Sì, sì, molto bene. Sai già riconoscerli perché con i gemelli è complicato? Allora ce n'è uno con la cresta, l'altro senza e l'altro una femmina, quindi è abbastanza facile. Sì, sì, io meno. Chiediamo i loro nomi, dai, forza. Mi nome è Dominic. Sì? Mi nome è Viac. Mi nome è Phoenix. Va bene. Quanti anni hanno? Ci ha tenuto a precisare che tutti e tre hanno undici anni. Anche perché è logico che abbiano la stessa età. Allora è la prima volta che vengono in Italia. E con chi siete venuti? Così voglio conoscere quelli che vi hanno accompagnato. Dov'è la mamma? Mamma, dove sei? Ciao mamma. Ciao mamma. Welcome. Allora, vedete, lui è entrato con delle carte in mano. Allora, deduco, tu sia molto bravo a fare qualcosa con le carte. Cosa farà con le carte questa sera? E' bravo a lanciarle, a tirarle lontano. Posso provare con te? May I try with you? Yes. Ecco, quando non fai? Vediamo. Allora, vi faccio notare la casualità. Poteva darmi qualsiasi carta, ma ha dato un bel due di picche. Che in Italia non è proprio, propriamente. Allora, vediamo dove arrivo io, eh. A momenti mi torna lì indietro, è una sfiga. Bestia. Facci vedere qualcosa. Guarda, guarda. Ma porca mia. Lo sapevo che era troppo forte, lo sapevo. Leode. Va bene. Questa è la base di quello che sa fare lui, il lancio delle carte. Come avete visto, sono le tradizionali carte da gioco. Puoi dire di introdurre la seconda parte del suo spettacolo e se può farci vedere qualche esempio, per favore. Qual è la seconda parte del tuo spettacolo? Siamo a farci vedere un po' di frutti e vegetali. Ha detto che lo tireranno al cibo. Al cibo. Allora, facciamo entrare il carrello della spesa, per favore. Grazie. Ecco, Gas. Da Las Vegas, Gas. Grazie, Gas. Allora. Allora, prendete un po' di cibo e fateci vedere cosa sapete fare. Ah, mettete gli occhiali per sicurezza. Certo, certo. Ecco, prego, please. Occhio, adesso lui tenterà di tagliare la testa del sedano o la testa della sorella. Dipende. Siamo qui. Dipende un po' da come vanno... Mamma mia. Come fa? Ma come fa? Oh, ragazzi, è anche abbastanza duro. A volte uno non ce lo fa col coltello. Questo l'ha fatto con una carta. E adesso? Ancora più difficile. Vediamo. No, in bocca no, no, in bocca no, 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 per favore, per favore, digli che si assume la responsabilità. Va bene che sono tre fratelli se anche ne manca uno, vabbè, sempre, però, be careful. Occhio. L'ha già tagliata. L'ha già tagliata. No, vanno forte col sedano. Vieni, vieni, vieni. Pensavo avessero carote, zucchine, ma vedo che... Siamo, vieni, 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 vieni. Sì, vieni. E dai, avanti. Qual è la paura? Non aver paura. You don't need a pillow. Eh? Ma parlato tua sorella? Ma parlato tua sorella? l'ha fatta a pasta non hai bisogno del cuscino fantastico ci ho preso gusto ragazzi vado con loro a Las Vegas lo faccio io o lo fai tu? lo faccio io? dove la tengo? smart, ok ok, that's smart fantastico 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 no no non vuole andare avanti no 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 non vuole andare avanti anzi se vuole andare avanti ci fa vedere tutto lo spettacolo come se fossimo a Las Vegas and if you can make me see me bye chungae